Il Movimento Regione Salento continua a radicarsi sul territorio salentino con un nuovo importante ingresso. L'assessore comunale di Castro, con deleghi alla pubblica istruzione e politiche sociali Raffaella Persano, aderisce al Movimento ed è stata nominata coordinatrice cittadina di Castro. A presentarle è stato il presidente del Movimento Regione Salento Paolo Pagliaro. Diamo il benvenuto ad una persona eccezionale che aderisce al nostro movimento e le affidiamo le redini del coordinamento cittadino di Castro. L'assessore Raffaella Persano, afferma Pagliaro, è una donna speciale che ama il suo territorio, la sua città e il suo salento. Nata a Castro, vissuta in Svizzera e tornata per dare un contributo alla crescita e allo sviluppo della sua terra. Persona concreta, attiva da sempre nel sociale, coniuga la sua passione per la politica e l'impegno nel sociale. L'assessore Raffaella Persano ha espresso il suo entusiasmo per la nuova responsabilità. Ringrazio il presidente Pagliaro per le belle parole e per l'accoglienza. Lui per me è un esempio sia come politico attivo sul territorio, con le sue battaglie che entrano nel vivo dei problemi del nostro territorio e sia nel sociale, dove da tantissimi anni è accanto ai bambini speciali e alle loro famiglie. Sono lieta di entrare a far parte di un movimento territoriale che lavora tra la gente e per la gente ogni giorno dell'anno. Da parte mia ci sarà il massimo impegno in linea con gli obiettivi del movimento. A supportare e dare il benvenuto alla nuova coordinatrice, sono anche il coordinatore regionale del Movimento Regione Salento Pierpaolo Signore e il coordinatore provinciale di Lecce e Francesco Viva che esprimono i loro auguri e l'auspicio per un proficuo lavoro insieme.